Protestano i poliziotti del SAP, il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, dinanzi al carcere di Foggia per denunciare le difficoltà in cui versa il personale di Polizia Penitenziaria a fronte di carenza di unità e problemi di gestione durante i turni di lavoro. Durante la manifestazione sono state bruciate le tessere di riconoscimento per protesta, oltre all'incatenamento dei poliziotti e la raccolta firma per chiedere il passaggio della Polizia Penitenziaria sotto le dipendenze del Ministero degli Interni, poiché la sicurezza delle carceri è ormai diventato un problema di sicurezza nazionale. Segretario, a due anni dall'evasione nel carcere di Foggia la situazione è peggiorata? Sì, la situazione purtroppo è peggiorata e le devo dire che noi siamo qui a Foggia proprio perché da qui da Foggia parte la protesta della Polizia Penitenziaria, perché la Regione Puglia non può essere trattata in questo modo. Noi siamo arrabbiati, molto arrabbiati perché qui due anni fa c'erano 73 detenuti che sono evasi, una cosa che tutto il mondo ha avuto grande risalto in tutto il mondo, mentre l'amministrazione penitenziaria se ne è completamente fregata, anzi se vogliamo la situazione è peggiorata. Qui mangava un comandante di reparto e non c'è il comandante di reparto, il direttore è da solo, ma la cosa più importante è che manca il personale. Vent'anni fa qui c'era un organico di 350 unità previsto dal Ministero della Giustizia, adesso siamo a 270, togliamo quelli che sono, perché poi c'è anche il problema qui della gente che ha 53, 54, 57 anni, quindi c'è gente che sta pensionando e i colleghi purtroppo che stanno all'interno sono costretti a occupare 3, 4 posti di servizio contemporaneamente facendo 10, 12, 14. Mi diceva un collega stamattina addirittura a 16 ore, non è possibile questo. La manifestazione a cui hanno dato l'adesione anche alcuni consiglieri regionali che vogliono vederci chiaro nella gestione del servizio sanitario detenuti da parte delle ASL, soprattutto per i pazienti e psichiatrici, viene fatta non solo per i cacciari di Foggia, ma per tutti i penitenziari della regione a cui mancano 600 unità a fronte di una carenza nazionale di oltre 4.000 poliziotti.